Madonna santo! Ma guarda quello, Michele! Ma guarda, ha fatto un giro della morte là a bestiare. Ha fatto un giro veramente per i foram palermo, ma salchiamo sempre. Lascia! Che fai di bello? Che fai di bello? Raccontaci, raccontaci. Stai sciupatello, eh? Stai sciupatello, eh? No, no, faccio io, faccio io. Eh no, lui ha fatto il guerriero qua. Taricone, taricone. Hai capito? È il solito che se ne vuoi scendere. Però, qualcuno vestito da Babbo Natale ci vuole, eh? Eccola, Ale! Oh, non ho cascato da ferragio, l'ho cascato qua. Eccola! 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 Grazie a tutti.